Oggi mi trovo a Passeranno Marmorito Il mio paese si chiama Passeranno Marmorito che c'è le cartoline lunghe così se no non ci sta il nome del paese nella cartolina Se questo nome non ti dice niente è perché probabilmente bontà tua sei troppo giovane ma negli anni 80 il nome di questo paese era abbastanza conosciuto grazie a un personaggio interpretato da Giorgio Faletti che faceva parte di una trasmissione televisiva che si chiamava Drive-In ed era una trasmissione comica fondamentalmente una trasmissione che ha reso noti al grande pubblico Faletti appunto ma anche Gianfranco D'Angelo Enrico Beruschi, Ezio Greggio e anche altri Sergio Vastano mi ricordo Tinicansino insomma un po' di gente che poi chi più chi meno ha fatto abbastanza successo negli anni successivi questo personaggio che si chiamava Carlino aveva la caratteristica di avere un fratello più grande sposato con una donna abbastanza prosperosa almeno così la descriveva c'è la sua moglie di mio fratello proprio bella c'ha due polmoni e non particolarmente fedele che l'altro giorno l'ho trovata streata in macchina con uno sopra che ci faceva la respirazione bocca a bocca ci ho detto passeranno marmorito alla fine è un ovviamente come ci si può immaginare un paese come tanti non ha nulla di particolare perché il paese è piccolo la gente mormora l'unica cosa l'unica particolarità me l'ha regalata Google Maps perché seguendo le sue indicazioni invece di ritrovarmi in centro paese come di solito succede mi sono ritrovato ecco come puoi vedere davanti al cimitero